L'acqua, insomma qualcuno la definisce l'oro blu, sicuramente è un bene prezioso che dobbiamo gestire con la massima oculatezza. Purtroppo negli anni passati forse c'è stata un po' di trascuratezza, si è sprecata, se se ne è abusato e dobbiamo renderci conto appunto di quanto l'acqua sia preziosa e quindi agire di conseguenza evitando disastri ambientali come ahimè ben conosciamo.